I numeri dell'economia sono ancora troppo bassi per le nostre ambizioni. Ci sono dei segnali positivi, ma ci sono anche elementi da prendere seriamente in considerazione. Oggi registriamo un dato sulla produzione industriale del più 4% annuo, è un dato importante. Oggi discutiamo dei numeri del Jobs Act, 588 mila posti di lavoro in più rispetto al febbraio 2014 secondo l'Istat, ma abbiamo ancora alle nostre spalle e sulle nostre spalle il peso di anni, in alcuni casi lustri, di difficoltà. I numeri dei ragazzi che se ne vanno non sono un problema soltanto per l'entità, ma perché spesso non hanno l'occasione per ritornare. Certo è che in questo scenario pare ridicolo chi fa la morale sulla differenza tra le stime del Governo, più 1% per il 2017, e le stime del Fondo Monetario Internazionale, più 0,9%. Ora si può fare tutte le valutazioni di questo mondo, ma che la differenza di stima tra il Fondo Monetario Internazionale, che non è un covo di pericolosi ottimisti del gruppo stalinisti per la crescita, e le stime del Governo, appena differenziate da uno 0,1%, aprano la discussione per un paio di giorni sui quotidiani, fa scattare un sorriso, in particolar modo pensando che non abbiamo sentito le stesse voci allarmate o preoccupate quando nel 2012 e nel 2013, e già eravamo al Governo, la crescita era del meno 2%, meno 2,3% in un caso, meno 1,9% nell'altro.